eccoci e allora grazie a tutti aver accettato l'invito che come osservatorio dell'unione europea abbiamo promosso per questa iniziativa di un primo analisi a caldo diciamo dei risultati elettorali le elezioni europee si sono appena svolte abbiamo visto che di fronte al disegno alla paventata avanzata delle destre che pure c'è stata in tutta europa resta ancora in forze la possibilità che quello che viene chiamato la maggioranza di ursula monterlein rimanga come pilastro per la costruzione dell'europa delle istituzioni europee per meglio dire che ci saranno credo che dal nostro punto di vista il nostro punto di osservazione sia bene anche fare un'analisi del voto un po' a volo d'uccello su quello che sono non soltanto i risultati italiani che da una parte vedono la tenuta diciamo del governo della Meloni e la contemporanea avanzata anche del partito democratico e quindi un po un ritorno al al bipolarismo un bipolarismo che in chiave europea diciamo non si riscontra ancora e quindi vediamo come credo sia diciamo in discussione la questione di di quale assetto avrà nel nuovo parlamento nel nuovo scenario diciamo delle istituzioni con capi di governo che appunto istituzioni europee quale equilibrio si verrà formando e su tutto questo la vicenda della Francia con la sconfitta di Macron e l'indizione di nuove elezioni nazionali diciamo rimane un po' un punto di svolta rispetto alle scelte europee sicuramente un ruolo preeminente lo gioca la Germania che in questo senso non ci rassicura del futuro e della capacità dell'Europa di mostrarsi capace di cambiare rotta rispetto alle scelte fin qui assunte sia in termini interni che in termini di politica estera io ringrazio innanzitutto Pasqualina Napoletano e Roberto Musacchio che apriranno un po' questa riflessione e che poi magari daremo spazio anche a interventi di chi ci segue chi con noi partecipa a questa riunione e quindi darei subito la parola a Pasqualina che nella sua introduzione farà un po' il quadro di quello che è che è l'esistente Pasqualina a te la parola grazie mi sentite perfettamente e con l'altro ruba anche se io due tre cosette vorrei dirle eh sottolineare la caduta della partecipazione al voto che è stata eh particolarmente significativa tant'è che siamo per la prima volta sotto il cinquanta per cento ai votanti e per la prima volta sotto la media europea poi ho indagato il fenomeno delle schede bianche e nulle di cui nessuno parla tant'è che io non ho trovato il voto nazionale però poiché molti hanno segnalato questo fenomeno era particolarmente eh serio in Calabria sono andata a vedere il dato della dove su settecentocinquemila votanti che costituiscono il quaranta virgola due per cento degli aventi diritti al voto le schede bianche e nulle sono l'otto virgola nove per cento che è un dato abbastanza sconvolgente le percentuale per provincia me le sono fatte da sola perché non esistono e e sono Vibo Valencia l'undice e nove Crotone sette e sei Cosenza diece e cinque Catanzaro otte e sette Reggio Calabria undici virgola uno per arrivare per una media eh regionale otte e nove non esiste un dato italiano in Italia che si dice di questo fenomeno anche perché schede bianche nulle non necessariamente sono collegate alla percentuale dei votanti ma quando si aggiungono ad una percentuale di votanti così bassa costituiscono un fenomeno da indagare anche perché si tratta di elettori che hanno sono andati al seggio hanno ritirato la scheda e non hanno espresso o l'hanno espresso con le nulle eh le loro opinioni che non sono stati comunque il voto ricordo infine che bene come è stato fatto ampiamente riferirsi ai voti reali e non alle percentuali perché questi danno conto eh di quali sono stati i veri eh le vere volontà politiche uscite dal voto e vediamo in questo quadro anche questa gran vittoria della Meloni abbastanza ridimensionata. Detto questo andiamo invece al quadro europeo e dunque ricordo a tutti noi che il numero dei deputati è passato da settecentocinque a settecentoventi in questa legislatura e quindi sono di più dell'altra legislatura. Ricordo anche perché per fare un gruppo europeo occorrono almeno ventitré deputati in rappresentanza di un terzo dei paesi. Questi sono i requisiti per dare vita ad un nuovo gruppo. Stando ai gruppi esistenti ho preso i dati ultimi ufficiali dell'Unione Europea che ci danno il Partito Popolare centonovanta più otto, il Partito Socialista centotrentasei meno diciotto, i liberari ottanta meno ventotto, i verdi cinquantadue meno dodici, la sinistra trentanove meno due, le CR partiti conservatori della Meloni settantasei più quattordici, identità e democrazia il gruppo di Salvini meno eh cinquantotto meno quattordici. Qui bisogna considerare due dati. Uno il crollo della Lega italiana che l'altra volta aveva il trenta per cento e quindi un corrispettivo di parlamentari notevole. Due che l'AfD che era un partito che si riferiva a questo gruppo è stato espulso durante la campagna elettorale. Oggi mi pare che stiano discutendo di una riammissione e questo gruppo porterebbe sedici deputati in più a questa lista che quindi avrebbe non il segno neno ma il segno più anche se non grandissimo. C'è da considerare pure che esistono ancora quarantacinque non iscritti cioè per deputati che sono fuori da questi gruppi ma ben quarantaquattro tra cui eh l'AfD che non è stata attribuita a nessun gruppo che appunto sono un po' ballerini nel senso che sono stati espressi da liste non direttamente organiche con questi gruppi ma da qui a quando il Parlamento si insedierà potrebbero trovare una collocazione nei gruppi. Ricordo che la maggioranza assoluta quindi del Parlamento europeo è di trecentosessantuno voti che servono per eh votare la proposta di presidenza della commissione che arriverà dal consiglio. Per la commissione nel suo insieme voto che avverrà in autunno a settembre ottobre eh il voto del Parlamento non ha bisogno della maggioranza assoluta quindi l'insieme della commissione quando il Parlamento la voterà la voterà con maggioranza semplice che vuol dire la maggioranza dei presenti al momento del voto. Per quanto riguarda il consiglio europeo invece i governi i ventisette come possiamo identificarli dodici di loro fanno riferimento ai popolari europei cinque ai socialisti o alleanze di sinistra cinque ai liberali due ai conservatori tre indipendenti. Ricordo che anche il consiglio per indicare la proposta del presidente o della presidente della commissione ha bisogno di un voto a maggioranza qualificata che vuol dire quindici paesi in rappresentanza del sessantacinque per cento dei cittadini dell'Unione europea. Quindi questo è un po' calendario. Vi do alcune appunto inquadramenti per poi eh passare ad alcuni giudizi. E stasera come abbiamo sentito da anche dalle forme dai mezzi di informazione che lo stanno seguendo c'è la riunione informale del consiglio con la cena cui non parteciperà la presidente della commissione uscente anche perché spera di essere la presidente della commissione entrambe. Ehm il consiglio prenderà degli orientamenti sull'intero pacchetto delle nomine delle indicazioni alcune hanno bisogno della ratifica che poi avranno bisogno della ratifica del parlamento europeo o dell'elezione parlamento europeo altre come il presidente del consiglio no. Comunque eh gli orientamenti riguardano la commissione dove appunto la proposta von der Leyen della riconferma sembra essere cresciuta nel frattempo fino ad apparire quella che verrà presa. Per la presidenza del consiglio si parla di Antonio Costa l'ex premier portoghese per il parlamento europeo la signora Mezzola che è già stata presidente del parlamento per l'altro rappresentante si parla di Caia Callis. Caia Callis è la leader e la presidente eh Estone eh che insomma fa capire che l'orientamento del consiglio se sceglie questa con un'altra rappresentante non depone molto bene rispetto alla prospettiva di una relazione di una pace di un cambiamento di politica anche io io la chiamerei una provocazione vera e propria anche perché la signora eh Caia Callis è nell'elenco di quelli che Mosca ritiene le persone da perseguire per aver consentito questo è il giudizio di Mosca eh eh lo prendiamo tutte le pinze ma per aver consentito insieme al ministro della cultura l'abbattimento delle statue eh dei soldati e dell'Unione Sovietica eh erette a memoria della guerra nazifascista quindi l'abbattimento di queste statue qualche significato lo ha non solo per loro penso in qualche modo detto questo eh quindi stasera questa riunione il consiglio europeo avrà poi la riunione invece non formale il ventisette il ventotto di giugno e quindi entro questo mese il parlamento europeo invece si insedia ufficialmente in una sessione dal sedici al diciannove di luglio quindi da qui ad allora ci sarà la formazione dei gruppi perché i gruppi politici di cui stiamo parlando eh sono orientativi ma fino a quel momento i vari gruppi possono ancora formarsi negoziare avere spostamento i deputati tra l'altro ci sono movimenti pare nei gruppi di destra o di estrema destra anche relativi al risultato del voto in Francia quindi però il sedici dal sedici al diciannove in luglio nella prima sessione del Parlamento europeo i gruppi dovranno essere stati ehm formati qui il Parlamento eleggerà la presidente del Parlamento e se ci sarà la proposta da parte del Consiglio del Presidente della Commissione potrebbe votare anche ehm il Presidente la Presidente o il Presidente della Commissione poi il Parlamento si riunirà di nuovo a fine luglio dal ventidue al venticinque luglio ehm dove comincerà a istituire le commissioni parlamentari ehm non ci sono previste ulteriori riunioni invece del Consiglio europeo il Consiglio europeo ha la sua ulteriore riunione il diciassette e diciotto ottobre quindi dovrebbe riuscire a decidere l'orientamento sulla la proposta non l'orientamento sulla commissione nella riunione il fine giugno del ventisette e ventotto giugno a meno che non decidano di organizzare in dire un Consiglio straordinario. A settembre invece dal sedici al diciannove settembre ehm il Parlamento europeo eh potrebbe se non è deciso ancora eh votare la Presidente e la Commissione se non ci sono entro 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 luglio ehm proposte che vengono dal Consiglio e dare il via a quelle che sono le audizioni dei commissari. Voi sapete che il Parlamento ha il potere di audire ogni singolo commissario nella propria commissione di eh riferimento. Questo non è un passaggio banale perché ricordo a tutti che nel duemila e quattro dopo l'audizione del Parlamento la candidatura dell'onorevole Buttiglione fu ritirata quindi non è un passaggio così da prendere eh sotto sotto gamba. Quindi dopo le le eh audizione le audizioni eh ci sarà il eh la plenaria del Parlamento europeo a dicembre dal sedici al diciannove dicembre lì ci sarà il voto dell'intera commissione e vi ricordo che in quell'occasione non c'è bisogno del voto ehm a maggioranza qualificata basta la maggioranza dei presenti. È chiaro che in questo calendario si intreccia eh il calendario delle elezioni e del voto francese con Macron che mi pare molto interessato a chiudere la partita il primo possibile mentre la Meloni invece molto interessata a tirarla per le lunghe ma non capisco come rispetto a questo calendario che vi ho illustrato. Alcune considerazioni politiche e tendenze per il futuro. Non c'è dubbio che vi è stata un'avanzata delle destre era particolarmente annunciata eh e tutti i sondaggi ce lo dicevano tant'è che avevano sperato che in Germania dopo la grande manifestazione di un milione di persone a Berlino che reagiva a quella notizia terribile dell'incontro segreto che toccava anche ambiti del 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 partito democratico eh eh tedesco della democrazia cristiana tedesca e comunque vedeva protagonista la FD sulla questione della deportazione degli immigrati e quindi vi fu questa grande reazione democratica si sperava che lì la la FD si fosse un po' bloccata nei consensi eh così non è stato perché abbiamo visto anche dai grafici che ha mandato Roberto su la i flussi dei voti viene fuori che alla FD i flussi vengono da quasi tutti i partiti eh dalla Sede U dai socialisti dalla Sede U più o meno perché ha tenuto ma dai socialisti anche da da dalla sinistra se volete ehm e e quindi noi ci troviamo di fronte a questo risultato che nella Germania dell'est la FD è il primo partito che mi pare un voto enorme una situazione enorme eh c'è stata la crisi in Francia con lo sceglimento del Parlamento vi sono state le dimissioni di Decro in Belgio governo liberale ehm che è formato da una delegazione di da una da una coalizione di sette partiti ma anche in Belgio il governo è saltato ehm c'è la situazione dell'Austria dove anche lì l'EFPO che era il partito di Haider diventa il primo partito e c'è un governo in carica invece il governo di Nehammer che è un governo eh popolari verdi quindi anche in Austria credo che ci sia un problema la situazione abbastanza sconvolgente a mio avviso a punto di vista politico è la reazione del cancelliere Scholz come se nel suo paese non fosse accaduto niente dove la sua maggioranza cosiddetta semaforo ha avuto eh diciamo è andata a bagno completamente e col fatto che adesso a settembre ci sono elezioni in Sassonia, Turinia e Brandeburgo sono tre lender dell'est europeo dove il dato eh secondo me eh è solo una crisi rimandata quella di Scholz o comunque sono estere fatta da come lui non abbia praticamente fatto nemmeno particolari dichiarazioni su questo voto e che è un voto che denuncia il fallimento dell'unificazione tedesca cioè non è che stiamo parlando di piccole cose stiamo parlando di 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 del più importante paese dell'Unione e quindi però a livello europeo come dice il mio amico Roberto siamo di fronte ad una stabile stabilità no quindi è vero che eh la maggioranza Ursula la vecchia maggioranza quella composta da eh popolari europei verdi ehm socialisti e liberali eh avrebbe sulla carta la maggioranza eh c'è questo discorso sui verdi che mi pare che una settimana sì una settimana dicono che potrebbero farne parte che la rafforzerebbe in qualche modo e eh però e vi è la questione dei famosi veti posti dai socialisti nel loro congresso a Roma e anche dai in parte dai liberali però vediamo che i veti dei liberali sono un po' ballerini perché in alcune situazioni sono andati al governo eh abbiamo visto la situazione olandese il che ha portato all'espulsione dei liberali olandesi dal gruppo quindi bisogna vedere questa tenuta ehm alleggia certo il ruolo della meloni in tutto questo anche perché io voglio ehm sottolineare questa no novità nel senso che la meloni per la prima volta da quando eh al governo italiano c'è la destra partecipa al consiglio quindi fa parte del di contribuisce al voto del consiglio poi vi sarà il voto del parlamento però io sulla meloni vorrei dire una cosa perché in Italia nessuno ha fatto ha notato questa cosa questa signora si è rappresentata agli europee nella lista eh in tutta Italia nelle liste parlamentari che è da presidente del consiglio qua non siamo di fronte ai leader dei partiti che guidano le liste per poi dimettersi qua siamo di fronte al capo dell'esecutivo che senza voler rinunciare al suo ruolo si presenta ad un'elezione parlamentare qui c'è un altro cappello della signora Meloni la signora partecipa al consiglio in quanto leader eh presidente del consiglio italiana ma anche eh presidente dell'ECR del partito conservatore europeo quindi insomma ha molti cappelli questa meloni sapendo concentrando su se stessa e questo è un segnale eh la intanto la politica italiana a livello europeo vedremo la mia idea è che lei non non voterà nel consiglio per la van der Leyen però ricordo a tutti che ci sono due passaggi il voto del consiglio e poi ci sarà il voto del parlamento quindi credo che aspetterà eventualmente la designazione da parte del consiglio della proposta van der Leyen per aprire con lei un negoziato eh che potrebbe comportare il fatto di garantirgli una maggiore sicurezza nel voto parlamentare perché ricordo a tutti noi che la scorsa volta quando la maggioranza van der Leyen era più consistente comunque fu eletta per nove voti mi pare e contribuirono a questi i nostri cinque stelle con i loro quindici voti ma anche il PIS polacco quindi capite che nella costituzione insomma nel voto eh parlamentare europeo eh ci possono essere delle novità che non comportano necessariamente far parte di una maggioranza costituita anche perché eh in Europa non esiste una maggioranza diciamo costituita eh sicuramente esistono degli orientamenti quindi ehm questo è ehm per quanto ulteriori riflessioni conclusive da tutta questa storia viene fuori che questa distunzione tra europeismo e anti europeismo così cara alla nostra stampa per dare le patenti ma non solo la nostra stampa è un falso problema è una visione cretina che sostiene che avendo rinunciato molti di di questi partiti di estrema destra sovranisti all'uscita dall'unione europea e dall'euro sono tu cur diventati automaticamente europeisti sono tutti europeisti e a questo si è aggiunto un secondo criterio e cioè che insieme occorre dimostrare una fedeltà atlantica quindi se tu hai queste eh caratteristiche sei completamente sdoganato come ehm come europeista e come appartenente al club del europeo europeista e occidente occidentale evidente che ehm invece che l'intergovernativismo che avvicina sempre di più questa unione europea ad una confederazione di stati nazione è perfettamente compatibile con le destre anche più estreme dirò di più questo è il loro modello e lo stanno realizzando basta sentire le intervisti di Procaccini che è l'esponente più impegnato a livello europeo lui eh mi pare presidente del gruppo o della delegazione del gruppo ECR che rivendica questo modello e sulla maggioranza Ursula lui precisa che più che i partiti la scelta è dei governi è il voto del Parlamento è un voto di ratifica quindi eh legato all'appartenenza o no o all'opposizione rispetto ai singoli governi lo stesso Procaccini attribuisce alle a alle sinistre non meglio identificate una velleità federalista in verità tutte queste velleità alternative al con alla confederazione nella sinistra non si sono non si sono viste ma Procaccini ha ragione perché la tendenza intergovernativa ha colpito anche i gruppi politici e lo stesso Parlamento europeo perché noi siamo di fronte ormai continuamente alla scomposizione dei gruppi politici a secondo delle varie nazionalità e d'altra parte dobbiamo essere onesti a dire che questa campagna elettorale non è stata altra altro che la sommatoria di ventisette campagne elettorali nazionali questo ha un'influenza anche sulla partecipazione al voto dobbiamo farlo questo collegamento perché gli elettori non sono scemi gli elettori hanno capito che il pallino sta nelle mani del governo dei governi che decidono nelle loro stanze per cui e persino il voto il ruolo del Parlamento e il voto per per il Parlamento ha perso di valore rispetto all'epoca in cui il Parlamento dava segno di voler essere una istituzione comunitaria e non un insieme di delegazioni nazionali d'altra parte adesso la sinistra mette i veti o dice di volerli mettere ma non li ha messi in tutta questa legislatura io vi voglio citare le decisioni più importanti che sono state prese con il voto dei socialisti dei liberali solo con l'opposizione della sinistra sinistra a volte tutta a volte anche divisa ma su questo Roberto potrà dire e a cominciare ve lo ricordate della risoluzione sulla memoria europea che fu votata il dodici settembre del duemiladiciannove nel momento praticamente dell'insediamento del Parlamento europeo quella risoluzione ha cambiato o ha tentato di cambiare le fondamente stesse dell'unione europea e ha ricevuto i voti dei socialisti dei liberali dei verdi eccetera per non parlare della guerra per non parlare dell'ultimo pacchetto immigrazione dove i voti si sono mischiati per non parlare del nuovo patto di stabilità quindi chiusa la parentesi della panderia che cosa vediamo all'orizzonte il ritorno alla vecchia politica sia dal punto di vista economico ignorando la questione sociale su cui tornerò un attimo alla fine e con di più un attacco ormai esplicito alla transizione ecologica che ha già modificato la politica europea in questa fine della legislatura insieme alla questione dell'immigrazione la guerra su questo interverrà Roberto però voglio dire che non è stata una discriminante per esempio tra destra e sinistra assolutamente no anzi il il grumo che si è creato nelle preoccupazioni dell'opinione pubblica sulla paura economica mischiata alla guerra mischiata all'immigrazione ha costituito un impasto che ha molto favorite le destre un'altra cosa che ha favorito le destre che noi forse non di cui non ci siamo reso conto è stato eh la pandemia e le politiche durante la pandemia ho visto molti dichiarazione dei giovani del centro europa anche del dell'est che dicono di essersi avvicinati alla destra proprio durante quel periodo e come reazione alle politiche che durante la eh pandemia venivano preci infine c'è un'enorme gigantesca questione sociale in Europa che insieme alla guerra contribuiscono alla crisi della socialdemocrazia europea che in quanto europea non è mai nata ma diciamo alla crisi dei partiti socialisti in Europa eh la cui crisi si evidenzia con quale dato col dato quel partito democratico italiano che non è nemmeno un partito di matrice socialista socialdemocratica è diventato il primo partito eh a livello europeo eh del dei socialisti il che fa capire come siamo messi infine eh vi ricordate che la legislatura fu aperta con la gran cassa Macron von der Leyen mezzo là sul futuro dell'Europa ci avevano promesso grandi riforme eh partecipazione popolare sono formati i gruppi in ogni paese europeo ora Virgilio Dastoli ci segnala che nei materiali preparatori del consiglio informale di oggi eh e che dovranno stabilire l'agenda ventiquattro ventinove i rappresentanti permanenti dei singoli governi dei ventisette eh nei materiali escludono qualsiasi modifica dei trattati anche per via di quello che il Parlamento si era illuso di voler mettere in moto la famosa convenzione che non è servita a niente quindi la l'orientamento è trattati vigenti quindi trattato di Lisbona per allargamento e ulteriore politiche che si vorranno fare verso la politica estera comune e la difesa ora io su questo voglio concludere e dire cari compagni io voglio una discussione tra noi su questo perché durante la campagna elettorale ho sentito molti esponenti anche nostri vicino a noi ehm sostenere la necessità di questo famoso voto a maggioranza del consiglio ora noi dobbiamo decidere se vogliamo vedere il dito o se vogliamo vedere la luna la questione non è il voto a maggioranza del consiglio la questione è il consiglio è il potere del consiglio all'interno della costruzione istituzionale europea che viene prima e molto prima di come vota è chiaro che si è trattato vigenti noi andiamo verso una politica estera comune vuol dire che le nostre costituzioni le possiamo stracciare e mettere nel cestino quindi a me eh è toccato fare una non polemiche ma precisazioni persino col buon Landini che era molto compresso della necessità di questo voto a maggioranza del consiglio allora io vorrei che su questo noi discutessimo altrimenti non cioè non capisco eh su che basi possiamo costruire una visione alternativa a questa Europa invece mi interessa e qui veramente concludo ehm legare il progetto di premierato italiano in Italia con questa costruzione europea è chiaro che se il potere del presidente del consiglio in Italia si salda con il potere dei governi in Europa noi possiamo consegnare alla signora Meloni non solo il potere esecutivo in Italia col potere di sciogliere il Parlamento e tutto eh ma anche le chiavi di Bruxelles d'altra parte io non so se a voi ha colpito la dichiarazione con cui Macron ha indetto le elezioni che sembrava quello di un monarca eh dell'anzian regime ha detto ho deciso ho deciso di restituirvi la scelta del nostro avvenire cioè manco ha detto ho preso atto del voto eh essendo voi espressi essendovi voi voglio gli espressi in modo critico voglio una verifica ho deciso ragazzi io a me queste parole hanno eh hanno molto colpito e e quindi il fatto che tutto si riduca al voto e a rivedersi poi dopo cinque anni sia in Italia che in Europa avendogli consegnato tutto il potere io credo che che noi dobbiamo reagire a questa prospettiva grazie e scusate la nuova grazie veramente molto interessante a partire da insomma da tutti gli aspetti fiduzionali che da qui a dicembre ci saranno quindi prezioso invece formazione che ci hai fornito per continuare la lettura vorrei dare adesso la parola a Roberto Musacchio sì grazie e con Pasqualina ci eravamo sentiti anche divisi un po' i compiti e poi lei era del gruppo socialista quindi ci ha detto a più minuti di parola scusate ma non è facile è fare il quadro eh in poco assolutamente no scherzo eh lei ha già detto il focus che mi ha notato però mano mano ve l'ascoltavo e anche per rafforzare poi questa mia teoria eh chiave di lettura sono andato a vedere una cosa Pasqualina che invece non abbiamo discusso insieme cioè che è l'affluenza al voto che tu hai peccato dal punto di vista italiano ma complessiva in Europa per non mandare adesso sulla chat di trasporto perché mi ha colpito eh cioè ehm negli anni che vanno dal 2000 dal 2004 ad oggi l'affluenza è la più alta eh con l'Italia che scende verso il basso per la prima volta l'Italia ha un'affluenza minore che la media europea cioè c'ha 49% a frutta di una media del 51% e ci sono cose anche che colpiscono per esempio eh c'è una fuestra significativa che so io in in Danimarca che era uno dei paesi più euroscettici e quindi complessivamente c'è questa fuestra del 51% che sono sette punti in più del duemila e quattro eh e secondo me segnalano che cosa diciamo un mutamento eh di natura e complessiva ma anche geopolitica dell'Unione Europea che si rispecchia anche nei ragionamenti che faceva prima Pasqualina eh nel percorso seguito e adesso anche dell'Unione Europea ma io mi ero riproposto questa chiave di lettura che avevo cioè eh il rapporto tra la guerra come scelta strategica conseguente in questa fase ma secondo me eh preceduta da una lunga incubazione insomma da non è che viene fuori all'improvviso insomma questa vocazione eh dell'Unione Europea a mio avviso è già in presente nella vicenda di Jugoslava e e e le elezioni stesse insomma. Ora eh se c'è un rapporto tra queste due questioni insomma che poi la guerra significa tante cose compresa l'azione politica e dato che diciamo prima per cambiarsi della partecipazione in eh alle elezioni e anche similiari. Ora a me pareva e pare tuttora assolutamente evidente dal punto di vista della soggettività ehm con cui si è proposto l'establishment. Cioè è un po' strano no? Establishment è stato chiarissimo in campagna elettorale in quanto tale. Eh cioè la campagna elettorale di conferma di Ursula von der Leyen è una campagna elettorale eh tutta fondata su la chiave del riarmo e del conflitto permanente di lunga durata fino alla vittoria con la Russia. È difficile non accorgersene di questo fatto. Mi pare che eh la stessa cosa venga per esempio da Michelle che ha anche definito che la maggioranza possibile è quella determinata da chi eh concorda con questo tipo di impostazione. Poi tra di noi abbiamo discusso peso è tutta fila atlantica dipende dalle scelte degli Stati Uniti eccetera eccetera. Io ho sempre mh teso a dire secondo me c'è un peso di soggettività molto forte molto significativo e stabilito europeo in questa direzione. Ci sono precedenti significativi storici e anche più raccicinati eh di chi pensa che l'Unione Europea si costruisce in chiave ehm eh russa. Ora eh di fronte a questa chiarezza eh con cui si sono presentati gli establishment complessivi eh di cui fa parte secondo me anche la votazione eh di Meloni la la decisione di Meloni di presentarsi. Vedi Pasquena tu ne hai sottolineato l'aspetto eh appunto eh ma si può dire anche tra virgolette inquietante di questa vicenda qui no? Ma è assolutamente connaturata al tipo di governance che c'è all'Europa. L'Unione Europea ha una governance intergovernativa e lei vuol dire che è l'unica che partecipa a quel Consiglio Europeo eh che ha vinto anche le elezioni personalmente che si è sottoposta a una verifica elettorale personale cioè che ha preso un bagno di preferenze. Ora ehm a fronte di gente che o non è eletta come eh quelli che sono i eh establishment eh nominato o a fronte degli altri che tendenzialmente hanno perso tutti le elezioni. Cioè immagino che in queste ore quando lei ha alzato il tono anche rispetto a Macron e Scholz dietro c'è anche questo. Cioè due che hanno perso brutalmente le elezioni e una che è passata per la verifica elettorale. Ora in un'Europa delle nazioni come pensano le destre eh questo fatto del presidenzialismo e oppure delle elezioni diretta del premio eccetera eccetera è particolarmente significativo e particolarmente utile a una certa visione. Cioè io sto in Europa in quanto so non solo il presidente del consiglio eletto ma uno che ha presi i voti. Gli ha presi per fare la presidente del consiglio eletto in in Italia ma li prendo anche in quanto candidata votata eh d'Italia alle elezioni europee. Cioè è meno incongruente tra virgolette dal suo punto di vista. Cioè le letture che hanno dato anche negli ambienti federalisti non hanno adesso poi non so se lei avesse questa raffinatezza dentro pensiero non perché il mio sia raffinato ma insomma eh secondo me eh però è è una cosa che può tranquillamente e avrà sicuramente utilizzato anche nell'ambito del rapporto con altri leader europei. Ecco ehm non c'è consapevolezza eh di questa dimensione che gli altri hanno esplicitato gli establishment eh nel tipo di elezione che si è determinata eh che è sostanzialmente un'elezione nazionale. Eh hanno girato altre cose che sono state quelle eh tradizionali della questione europeisti contro eh eh sovranisti la questione destra sinistra ma secondo me sono state oggettivamente minori dal punto di vista del eh della realtà cioè cioè la piattaforma con cui si è presentata Ursula è chiaramente quella che dicevo prima eh non eh particolarmente questa seconda anche se ha punti sul sovranismo e sul destra e sul sinistra insomma ma dicevo dall'altra parte le elezioni sono state fortemente nazionali ma in un quadro in cui il nazionale è comunque segnato dalle scelte generali e quindi magari non ce n'è consapevolezza soggettiva in particolare la parte dell'elettorato ma anche dei soggetti politici che magari non hanno interesse a a determinare questa consapevolezza ma le conseguenze delle scelte fatte naturalmente in campo eh ci ci sono insomma questo mi pare che non si possa succedere sicuramente non c'è stato un protagonismo dei soggetti eh eh politici e e intermedi europei i partiti europei in quanto tali non sono praticamente esistiti sono peraltro divisi al loro interno compreso il nostro e e c'è stata credo uno o due confronti da questi mh spizza in candidata che non ha preso quasi nessuno e e non c'è uno strascio di protagonismo eh dei dei soggetti sociali cioè non c'è stata una piattaforma significativa che qualcuno se ne è accorto di qualcuno di questi soggetti sociali dal sindacato a anche ai movimenti che un tempo si occupavano di questa dimensione europea considerandolo un'articolazione della globalizzazione e quindi eh necessariamente attraversata dal loro protagonismo social forum europeo e quindi elezioni nazionali nella loro eh diciamo non compresa nella incapacità di comprendere qual è eh lo scenario stesso questo quadro guardo alcune aree la scolina ha già fatto questo lavoro però io mi risulto torna sulla Germania perché la Germania è particolarmente significativa e significativa insomma innanzitutto ha votato un sacco di gente votato il sessantacinque per cento eh che qua quindici punti in più dalla media europea quattordici punti cinque punti in più dall'altra volta e è la prima volta che si votava in recessione e si vota in un momento in cui eh c'è un cambiamento radicale tra la Germania per come è venuta fuori dall'unificazione e la Germania per come sta adesso nella rottura del processo di globalizzazione in particolare nei rapporti con la Russia io penso che c'è una Germania di eh Schroeder eh Colle ma anche Merkel eh La Fontaine che che sarebbero non grado di intendersi tra di loro in qualche modo almeno sul tema di discussione e c'è una Germania che sta tra Ursula von der Leyen eh la SEDU nella sua composizione più prudente a mio avviso ma anche più eh eh scettibili di apertura avventurista ulteriori e e e poi eh diciamo questa questione del governo eh semaforo che è francamente un punto attualmente angosciante insomma anche perché mette in discussione eh la la capacità di intersecare il tema della guerra con il tema della l'altra per favore dovete spegnere i microfoni con gli altri temi e lì ha già detto Pasqualina i flussi dei voti sono in direzione della 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 FD sono da tutti i soggetti eh però c'è un allargamento della SEDU che in questa fase ha assaggiato un po' il terreno anche del rapporto possibile con la FD non ha avvuto particolari avventurismi sul terreno della guerra infatti anche le le cose che hanno eh spinto da destra il governo eh sono state agite principalmente dai verdi e da da settori liberali e così via su dai e devo dire che soggettivamente è uno dei luoghi dove si è manifestata diciamo una soggettività politica che ha fatto dalla guerra uno dei centri che è la eh la BSV insomma la partito di Sara diciamo così eh che va analizzato per quello che è cioè naturalmente io eviterei l'etichettatura troppo facili e gli schematismi io sono andato a vedere un po' i dati anche lì è l'unico partito che non cede alla FD cosa comunque credo meritoria e però dal punto di vista dell'afflusso dei suoi voti eh diciamo che le motivazioni al punto è sono nell'ordine quelle economico sociali tipi compresa il rapporto con la sicurezza e la migrazione e naturalmente questo è uno dei punti più critici di ragionamento ma molto forte è la questione della guerra lo quasi il settantotto per cento dice che ha votato eh di chi ha votato da come motivazione della guerra e poi la terza motivazione è la delusione della eh della lì ora dove va la Germania è è complicata è una delle grandi domande da porsi insomma cioè eh cioè precisamente che fa il paio con eh ragionamento che ci facevo anch'io dove va l'Unione Europea e quindi lo legherò poi una parte finale eh di questa mia riflessione insomma per la prima volta in recessione una fase economica difficile l'affrontò già con la l'unificazione allora il processo di integrazione europea la aiutò perché la l'unificazione tedesca fu sostanzialmente pagata da eh dall'Unione Europea attraverso anche gli extra ehm eh i surplus esportativi io non so che idea hanno come si può dire di che cosa trarre per sé eh dal conflitto con eh la Russia so che fino adesso in questi trent'anni c'è stato un doppio binario Nato e Unione Europea arrivano a Nato ma arrivavano anche l'Unione Europea l'allargamento a favore della Germania l'attività è a favore della Francia però è una discussione che abbiamo poi c'è il voto francese anche questo va visto perché eh all'Europa c'è stata una frammentazione sia del centro liberale che della sinistra e dall'altra parte eh invece un risultato significativo di Le Pen eh che sta precisamente in quell'area della Europa delle Nazioni che anche Pasqualina ha definito meno sulla questione della guerra eh questo è un terreno più eh incerto per Le Pen e però insomma eh diciamo eh è è il soggetto che 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 ha maggiore corrispondenza tra la capacità di eh eh di successo nazionale anche di quello europeo segnalarei una cosa che va vista che è la parte nordica non quella dell'est ma quella dell'ost questa non c'era nel pezzo di Pasqualina ma il triangolo Danimarca Svezia Finlandia ho cominciato da là c'è una partecipazione al ruoto a Danimarca che credo che non ce l'avessero prima poi devo finire di vedere bene i dati e sono tre paesi che hanno fatto eh in modi diversi diversi perché qualcuno è per investire sulla Nato qualcuno meno qualcuno sull'esercito europeo qualcuno no eccetera eccetera però hanno fatto una scelta sostanzialmente antirussa eh non eh di europeismo eh eh federale eh ma di eh appunto di partecipazione all'Unione Europea più stretta ma tenendosi i margini ehm sociali che gli derivano dalle loro caratteristiche nazionali e da questo punto di vista i risultati delle sinistre alternative radicali insomma europee sono alti in particolare in Finlandia ma anche in Danimarca e in Svezia e quindi questo dato eh eh è significativo eh perché incrocia diciamo una caratteristica nazionale e geopolitica eh cosa che per un periodo dimenticavo di dirlo prima ha fatto la link in Germania la link è stata l'altra unificazione tedesca eh invece nel cambiamento del ruolo geopolitico che si dà la Germania non riesce a interpretare a mio avviso eh diciamo questa nuova fase. Poi ci sono paesi che io chiamo della stabilità nella definizione di stabile e instabilità che ho preso Pino Rosqualina insomma e che sono la Spagna l'Italia e la Grecia eh dove sostanzialmente i governi escono confermati eh in Grecia marchiamente in Italia eh significativamente in Spagna con un giochetto di di sorpassi o non sorpassi tra i socialisti e i popolari ma in dem vale per il Portogallo. Diciamo quest'area eh è più abituata a stare nella crisi economica e sociale eh soffre di meno quindi forse diciamo l'impatto della guerra perché già soffre particolarmente di tutte le altre eh vicende e e c'ha una situazione eh politica eh più determinata da una logica di di polarismo anche se in Grecia torna ad affermarsi con forza la centralità di nuova democrazia. Eh la destra come si può dire non è che sfonda ma quella l'agenda è segnata insomma da fortemente da questo carattere di Europa delle Nazioni di intergovernatismo in cui loro accedono anche eh al confronto con gli establishment perché hanno di creare le condizioni di avere un sostegno popolare eh come dicevo prima della caratteristica del voto dalla Meloni che nessuno fin qui ha messo eh in rilievo che però a mio avviso è significativamente. eh la sinistra radicale è un bel guaio perché a me le divisioni sono di tutti i tipi sono sulla guerra, sono nazionali, sono geopolitiche, sono ideologiche e quant'altro. Io penso che è un problema serio eh perché si mischiano eh diciamo divisioni geopolitiche, quelle che dicevo prima, la sinistra nordica eh espressione di questa fase. Eh però c'è anche un percorso politico-culturale che ha portato a quella che io chiamo la sinistra occidentale. Eh adesso non so come definirla ma insomma quella che sostanzialmente eh in questo momento pensa che la battaglia fondamentale sia contro l'imperialismo russo e fa niente che lo fa che lo fai anche diciamo con cattive compagnie, tanto noi siamo altri ma insomma dietro c'è l'idea che comunque l'Occidente esprime eh un campo valoriale superiore. Io penso che così non è mai non era mai stata così ma insomma è così. Secondo me è anche un pezzo tra virgolette adesso non generalizzo ma anche del sessantotto è andata in questa direzione eh occidentalizzante insomma. E c'è da pensarci, c'è da rifletterci perché è un problema molto serio oltre a quello appunto geopolitico. Proprio per questo eh questa è una mia idea ma insomma è assolutamente personale. Io proverei in tutti i modi a evitare la diaspora del gruppo parlamentare. Anche perché eh insomma è stato un riguaio grande e anche perché contemporaneamente c'è una diaspora anche del soggetto politico ma senza che io veda fattori di eh di ricomposizione dentro la sinistra radicale. Non riesco a capire cioè oltre il partito della sinistra europea che cosa si possa fare se si possa pensare ad altre cose. Naturalmente la diaspora nasce anche dai paesi. Ci sono cose significative. Adesso non parlo dell'Italia ma presso in Grecia per esempio eh eh Farufakis e gli altri compagni che erano usciti da eh da Sirizia hanno fatto tutti e due al due e mezzo per cento. Penso alla vicenda francese. Eh la stessa nostra insomma che appunto io un po' insistito per una lista unitaria insomma adesso non voglio riprendere questo tipo di questione. Io se stessi in Parlamento lavorerei per una un gruppo parlamentare unico e che tenga dentro anche Sara e anche i Cinque Stelle italiani. Cioè direi che le ragioni per stare insieme sono di più di quelle che dividono e troveremo. Per avere anche più peso per avere una potenzialità anche a fronte della questione della riduzione di peso dei verdi. Non lo so. Mi pare molto difficile. Eh però se non c'è una capacità di riaggregazione politica tutto è in mano all'intergovernativismo di cui Pasqualino ha parlato. E quindi tutti i giochi saranno etero diretti dalla formazione della commissione. Eh che avrà valore in questo caso. Perché il consiglio è abbastanza scontato. Insomma. Mi pare che Orban ha già detto io faccio l'opt out. Io non partecipo ma non blocco niente. E il resto del consiglio più o meno. La formazione della commissione è invece è in terreno di azione di Ulfola Fondellani tra l'altro li vendica anche per sé. Diciamo in una gamma che va da Meloni ai Verdi. E sarà una cosa composta naturalmente a seconda degli incarichi, delle curvature, degli indirizzi politici e del peso che darai in senso. Certo la situazione rimane instabile. Ora le ultime cose successe insomma denotano una difficoltà. Questo vale per il G7 e la conferenza svizzera su G7 se ho capito ha avuto dei problemi con lo stesso Scholz. Perché se ho capito il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia non è stato firmato perché anche per Scholz è troppo pesante oramai quello che ricade sulle piccole e medie imprese tedesche. Ho visto che in contemporanea questa mese per la prima volta l'approvvigionamento energetico dalla Russia è tornato a superare quello dagli Stati Uniti insomma. E ho visto anche che Crosetto insomma qualche elemento insomma ha detto che 40 miliardi l'Italia non ce l'ha da dare a l'Ucraina insomma. E quindi qualche elemento qualche è c'è alle porte le elezioni francesi ma soprattutto ci sono le elezioni americane. E qui appunto eh c'è precisamente il nodo che io pongo da tanto tempo insomma che rapporto c'è tra la volontà della UE e la volontà americana? È semplicemente eh di accotamento o no? Ecco io questo non credo l'ho già detto più volte e non lo ripeto per l'ennesima volta. Eh penso che sia peraltro uno dei fattori che rendono più drammaticamente strategico l'errore di chi pensa diciamo di dare eh di star vivendo un appoggio popolare alla resistenza ucraina perché invece l'imperialismo europeo è in piena fase di costruzione però insomma questa è una mia idea e vedremo insomma perché è chiaro che novembre il quadro potrebbe cambiare poi sappiamo Trump che il personaggio è quindi la situazione. Non abbiamo parlato per nulla di Palestina e questo è un altro segnale con cui chiudo insomma Palestina pure è stata fuori dalle urne. Eh probabilmente ha inciso un pochino eh nei voti nelle votazioni eh giovanili anche un po' in tutta Europa perché su questo eh c'è un maggiore facilità di appoggio insomma ecco eh quest'ata ma non eh ci sono alcuni paesi che vanno a riconoscimento e questo è fatto un positivo significativo ma credo che insomma eh è rimasto minore eh sia pure positivo rispetto a eh diciamo ad altri eh infatti. Bassa grazie. 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 a te. Siamo diversi qui partecipano all'osservatorio quindi darei spazio diciamo qualche intervento domanda questione e poi magari riprendere anche con Pasqualino e Roberto nel finale qualche qualche questione rimasta aperto. Non so se si vuole intervenire qualcuno. Posso fare io solo due domande Roberto? Prego prego Giovanni. Due domande e mi scuto dall'altro con di essere arrivato soltanto mh quando quando è iniziata la relazione di Roberto ma c'avevo cittadinanza e minoranza c'era un po' il problema problema di un campo rom eccetera quindi eh è rimpegnato col volontariato. Sono arrivato tanti e quindi mi dispiace di aver sentito Pasqualina. Io voglio soltanto quindi due domande fare. Quando Roberto alla fine pone il problema giustamente imperialismo dell'Unione Europea eh Stati Uniti beh io credo che tutto questo passi moltissimo con Roberto l'abbiamo discusso anche all'interno dell'osservatorio altre volte sul tema che anche Mattarella per parlare dell'Italia ha posto in maniera forte della cosiddetta difesa europea. Quindi questo passa sull'esercito europeo per lo meno come come finanza unitaria strutture e così via e come dire l'idea che poi l'esercito europeo può essere soltanto figlio di una politica estera e finanziaria europea. Quindi questo è un tema di discussione all'interno dell'intergovernativismo di cui si parlava nella prima introduzione. Io penso che su questo punto bisogna anche lo dico soltanto appunto come domanda introdurre il grande tema del del sud globale perché credo che ehm c'entri molto. La stessa Italia tenta in maniera goffa eh e ipocrita ma insomma tenta in qualche modo con il cosiddetto piano Mattei eh di entrare dentro questa discussione. È una discussione che c'è oggi all'interno della costruzione della nuova Unione europea. Insomma credo che questo eh sia un tema che esiste. Pensiamo già a tutti i processi di dedollarizzazione che stanno avvenendo avanti. Pensiamo alla relazione di Lula. Insomma la dedollarizzazione forse sta andando avanti in maniera più veloce di quanto non pensassimo. Secondo punto abbiamo detto mille volte e io continuo a ritenere che sia centrale il tema guerra eh e disarmo forse grande problema che si pone davanti su cui dobbiamo intensificare certamente anche l'impegno ma anche la riflessione nostra è il rapporto fra fra guerra proprio perché è costituente e non solo costituente di percorsi autoritari. In Italia non a caso il nuovo autonomia differenziale del premierato fanno parte di questa postura autoritaria che all'interno della guerra trova trova anche un certo rapporto di massa. Quello che chiamiamo io personalmente preferisco questa edizione una sorta di liberismo autoritario. Io credo che venga avanti una sorta di liberismo autoritario e per la prima volta forse negli ultimi mesi emerge anche un appoggio giovanile di massa e non solamente in altri paesi anche in Italia un appoggio giovanile di massa alla guerra alla guerra europea al liberismo autoritario. Cioè qualcosa sta cambiando. Credo che anche i voti italiani dati magari un po' come dire un po' in maniera agoscista, antifascista insomma ad alcuni ad alcuni candidati indipendenti di AVS in maniera massiccia, molto massiccia. Penso ai miei allievi universitari che ho dovuto rassallare voto su voto, penso ai centri sociali dove non si è rassallato nulla ma insomma qui c'è, io credo che ci siano forze di sinistra che ormai sono dentro consapevolmente o inconsapevolmente i rapporti di costruzione di un liberismo moderno di massa ma forse appunto noi dobbiamo maggiormente saper portare avanti il rapporto fra guerra e processi di accumulazione e ricostruzione in questa fase post globalizzazione delle catene del valore. Perché? Perché altrimenti pensate alla manifestazione adesso di domani qui in Italia ai Santi Apostoli, altrimenti noi andiamo, lo vedo anche in altri paesi, lo vedo fortemente, anche in Spagna in maniera minore si avanza questo tema, a una scissione fra guerra e programma sociale dove veramente nel programma del fronte popolare francese è eclatante e io credo che sono problemi politici che noi abbiamo davanti e che dobbiamo saperci pure, ovviamente lo dovranno fare se ci riusciranno, le forze che rimane delle forze organizzate, ma credo poco, ma insomma anche come osservatorio Europa, come laboratorio questo tema l'abbiamo. L'ultima domanda osservazione è questa, io credo che noi non usciamo da questo tema e qui la scissione in Germania, i voti il due e mezzo e poco più della Linke, il voto della Lager eccetera, ci dicono, io non so se la penso qui come Roberto, forse Roberto sul piano politico, istituzionale ha ragione, ma io penso che qui sapete che è un mio, la mia fissazione ho detto mille volte, qui invece c'è un problema di civiltà europea, cioè oggi c'è un dispositivo razziale di governo, di suprematismo bianco, che è una parte importante sia della guerra fredda, sia della costruzione dell'Unione Europea e anche delle vittorie delle destre, cioè dove l'elemento migrazione è fondamentale, cioè c'è un'ascesa globale, pensate appunto alla Francia ma non solo, del dominio razziale europeo contro appunto le migrazioni e anche del modo di produzione capitalistica. Io non ho forse lo stesso giudizio quindi che veniva dato sulla scissione tedesca, forse la vecchia antirazzista, ma io credo che anche il radicalismo europeo in qualche modo è stato ancora coloniale, sempre, ma sta diventando sempre più eurocentrico e la vittoria anche per la scissione tedesca secondo me ci dice questo e questo per me, e chiudo, è un grande elemento di allarme. Ovviamente non possiamo politicamente gestirlo, non ne siamo nemmeno capaci, ne abbiamo le forze, però forse un approfondimento all'interno di un osservatorio come l'Osservatorio Europa potrebbe essere necessario. Grazie. Grazie Giovanni. Vedo altre richieste di intervento. Posso, se non ci sono... Prego, Franco, vai. Dunque, in pochissimo tempo, ma insomma già la discussione si è fatta abbastanza interessante. Parto dalla prima considerazione che è quella su cui ha centrato la parte politica Pasqualina, cioè a dire il fatto che Pasqualina prende atto che in Europa si è sviluppato quello che appunto il filosofo Habermas diceva come pericolo da tempo, cioè il federalismo degli esecutivi. Io l'ho definita sempre invece oligarchia, si possono usare tanti termini. Il punto di fondo è questo, è che l'Unione Europea si va organizzando, si va strutturando da un punto di vista istituzionale o accentuando, per quanto mi riguarda o per la parte analitica mia, accentuando gli aspetti appunto oligarchici. Oligarchici non significa solo il rapporto con i potenti di turno, cioè gli industriali, la grande impresa, ma l'oligarchia in questo momento significa i governi, gli esecutivi che insieme decidono il destino di 400 milioni di persone. Quindi io su questo sono d'accordo, cioè che noi abbiamo ormai una strutturazione istituzionale intergovernativa e a mio avviso, al di là di tutte le differenziazioni nazionali, anche l'accentuazione del potere dell'esecutivo attraverso il premierato assoluto in Italia si iscrive in questa linea, cioè il potere si va concentrando sempre più nei capi di governo, nei capi di Stato e quindi è giusto che i vari regimi politici degli diversi Stati membri europei si adeguino a questo modello dell'esecutivo che decide tutte le politiche pubbliche saltando tutta la parte, diciamo, di relazione con la rappresentanza. Io non mi dilungo su questo perché condivido quello che ha detto Pasqualina, quindi non ho da aggiungere altro. La seconda cosa che volevo dire era questa. Se ho capito bene, ma penso di aver capito conoscendolo da tempo. Io credo che l'elemento, diciamo, drammatico che in questa fase emerge è che mentre le classi dirigenti, gli esecutivi, l'industria, hanno molto chiaro il nesso fra questione sociale e guerra, nel senso che loro articolano il rapporto fra questione sociale e guerra militarizzando l'economia. Cioè tutti i dati che noi vediamo da ormai da mesi e mesi, se non da anni, ci dicono che la scelta che è stata fatta dall'Unione Europea, in consonanza anche con le altre grandi competitor, cioè gli Stati Uniti e il blocco Cina-Russia, le classi dirigenti europee hanno fatto la scelta di militarizzare l'economia, come fa Putin, quindi non è che proprio particolarmente distinta. E questa militarizzazione comporta delle ricadute sociali, nel senso che la militarizzazione dell'economia comporta ovviamente l'accentramento dei poteri e anche, secondo me, la capacità che nonostante l'accentramento dei poteri, quindi una politica antidemocratica, ha sui cittadini, chiamiamoli sulle masse, sul popolo, nel senso che vediamo che non solo il popolo vota la destra tranquillamente, ma continua ad appoggiare, diciamo così, là dove è possibile, quello che Roberto chiamava, le nazioni della stabilità. Cioè, insomma, noi vediamo che il voto dell'elezione europea è andato verso i governi stabili oppure verso l'estrema destra, la quale metti in discussione i regimi come quelli di Macron in Francia. Quindi la borghesia europea ha molto chiaro il fatto che in guerra si risolvono in un certo modo i problemi sociali, cioè attraverso la militarizzazione, ripeto, dell'economia. A sinistra è stato colto questo onesto fra questione sociale, questione economica e guerra. Direi di no. Mi dispiace dirlo, cioè chi ha fatto la scelta di dire la pace e tutto, la guerra e così. Proprio da un punto di vista di cultura politica, secondo me, chi ha fatto questa scelta solo pace, senza includere nella pace la questione sociale, ha fatto proprio un errore drammatico, non solo diciamo di gestione delle elezioni. E adesso non cito il problema dei risultati elettorali, a me non mi interessano in questo momento dire che ho ragione perché i risultati elettorali sono 500 milioni, a me interessa dal punto di cultura politica. Cioè a sinistra non si è colto il nesto fra questione sociale e guerra. Mentre la borghesia, ripeto, ce l'ha chiarissimamente davanti e ha fatto un'opzione molto chiara. Quindi ha ragione Giovanni nel dire che i problemi della difesa significhano i problemi di che tipo di economia, di che tipo di accumulazione del capitale noi andiamo incontro. E qui mi pare che una notazione che io vorrei riprendere di Roberto Musacchio, cioè a dire che il problema della destra non è tanto e solo il suo avanzamento in termini elettorali, quanto l'estrema destra condizionerà l'agenda delle classi dirigenti, quindi dell'Unione Europea. Cioè effettivamente le classi dirigenti dell'Unione Europea, le quali hanno fatto la scelta di sorreggere la competitività dell'Unione Europea attraverso il diventare Unione Europea un soggetto, come dicono loro, geopolitico, quindi rafforzare la capacità di difesa, la capacità di decisione strategica. Se effettivamente la destra condizionerà questa in che direzione? Io questo non ho la risposta da dare, però credo che le classi dirigenti dell'Unione Europea, pur essendo condizionate, andranno avanti nel loro progetto di dare autonomia strategica e quindi rafforzamento della difesa, rafforzamento dell'esercito europeo, rafforzamento della postura geopolitica dell'Unione Europea sullo scenario mondiale si andrà e andrà avanti. E quello che io sempre dico, cioè dire che il momento amiltoniano, cioè il momento in cui l'Unione Europea dovrà emettere debito pubblico per sostenere la competitività dell'impresa, la transizione energetica e il rafforzamento della difesa, secondo me andrà avanti. Ovviamente questa è semplicemente una previsione pronto a essere smentita seguendo i fatti, però il punto che mi interessava, l'ho detto prima, cioè rafforzamento degli esecutivi come scelta istituzionale e la relazione questione sociale e guerra per quanto riguarda le classi dirigenti dell'Unione Europea, ripeto, sia economiche che politiche. L'ultimo punto, perché non voglio rubarvi molto tempo, è questo. Vageknecht, Sara Vageknecht. Ovviamente io parlo adesso veramente a titolo personale e quindi, come dire, a livello anche percettivo. Io però penso questo, mi rivolgo ovviamente a Roberto Musacchio in primo luogo. Io penso questo, che data la sconfitta iper storica, cioè è inutile che continuiamo a dire la sinistra non c'è, la sinistra perché la sinistra non c'è nell'Unione Europea e non c'è né la sinistra moderata, né la sinistra radicale. Cioè non esiste. Allora io mi chiedo questo, che cosa conviene fare a dei militanti, a degli attivisti politici in questa fase storica dell'Unione Europea? Cioè conviene semplicemente seguire l'onda o tentare di seguire l'onda e quindi, che so, diventiamo antisemiti, diventiamo anti-immigranti, oppure noi dobbiamo fare una battaglia culturale, prima ancora che politica di controtendenza, in cui ricostruiamo una sinistra intorno ai valori, che non è che voglio diettarli io i valori franco-russo, ma che insieme, cioè le forze che vogliono essere veramente di alternativa al capitalismo sovranazionale europeo, al suprematismo bianco, al razzismo, o noi ricostruiamo anche i valori e diamo un contributo in questa direzione e quindi facciamo della battaglia dei valori un elemento politico di costruzione della sinistra nel nostro continente. E' questo su cui vorrei anche invitarvi. La mia soluzione, dico da anni che perseguo, ovviamente, in estrema solitudine, è questa, cioè che io penso che noi dobbiamo far leva alla rielaborazione, non alla rifondazione, alla ricostruzione di quello che c'era nel vecchio, alla costruzione, alle invenzioni di valori all'altezza dello scontro col capitalismo, col capitalismo sovranazionale europeo. Siamo in grado di far questo. La Vagheknecht, Roberto Musacchio, esegue un'onda, appunto, che onda segue? Che si deve essere conti migranti, che si deve essere per il welfare state, in che sento? Cioè della protezione bismarchiana che bisogna dare ai popoli, quindi come dite, delle mance che bisogna dare ai popoli perché stiano ditti. Io quindi la via della Vagheknecht, la trovo rosso-bruna, l'ho detto nel vostro convegno a marzo-aprile e questo è stato, e lo ribadisco adesso. La Vagheknecht è proprio una corruzione dell'ideologia di sinistra e noi non possiamo seguirla su questo campo, così come tutte le uscite di Mélenchon, cioè di un vecchio barone socialista, io penso che vadano combattute da un punto di vista ideologico, cioè a dire che non si può essere appunto fare i giochini utilizzando la vicenda di Israele e facendo l'occhialino su ideologie reazionali. Quindi la costruzione di valori e di principi di sinistra. Questo secondo me, senza essere appunto, come dire, integralisti, ma difendendo appunto quello che può essere uno spazio culturale, ancora che politico, di una sinistra alternativa. Altrimenti noi rimarremo sempre incastrati in questi giochi in cui siamo perdenti e qui invece mi permetto una valutazione politica e chiudo. Beh, i giochi in cui noi ci mettiamo dal 2009 in poi, cioè ormai da 15 anni da questa parte, sono dentro un meccanismo appunto il politicista in cui ogni volta bisogna presentarsi alle elezioni, bisogna seguire le cose che ci sembrano che possano portare voti e non invece costruire un movimento, movimenti sociali di lotta che possono poi essere la base per effettivamente avere dei voti. Quindi anche noi dobbiamo riappropriarci, è veramente concluso, dal nostro punto di vista, del rapporto che c'è fra guerra e questione sociale. Se noi non siamo in grado di coniugare queste due cose insieme e finora nessuno le ha coniugate, io penso che noi continueremo a vivere una fase di frammentazione e per quanto ci riguarda anche come osservatorio in cui non riusciremo ad aiutare appunto a elaborare intanto un'analisi corretta di quel che avviene e seconda a elaborare dei valori in grado di individuare in queste due diciamo grandi questioni la possibilità di ricostruire dei movimenti sociali che nel nostro continente non esistono più se non appunto a sprazzi come stato per i gilets jaunes oppure a sprazzi per quanto riguarda le posizioni come dire sull'agricoltura o su temi su cui però purtroppo non riusciamo a costruire in in positivo. Il percorso è doloroso e molto lungo ma se non partiamo dal dolore cioè dalla situazione in cui stiamo io penso noi continueremo per altri quindici anni per chi vivrà ovviamente a dirci sempre le stesse cose. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Franco. Vorrei dare la replica per sapere se c'era qualcun altro o qualche osservazione. Roberto Russo. No ma io molto brevemente perché le questioni sono veramente complesse forse per titoli. Da una parte quello che è stato appena detto cioè la questione sociale è la questione della guerra che se vogliamo è un po' l'ABC di qualsiasi ipotesi di politica di sinistra no? Cioè fa specie doverlo ricordare. Però veniamo ovviamente da decenni nei quali la capacità di soprattutto in Italia ma anche in Europa di coniugare questi due aspetti o di avere una forte risposta sociale a quella che è la ristrutturazione capitalistica nelle sue varie fasi da quella della globalizzazione sino alla rottura della sua globalizzazione quindi la situazione in cui viviamo oggi passando attraverso varie crisi. In particolare se in Europa abbiamo avuto in vari paesi diversi momenti di conflitto sociale significativo non abbiamo mai avuto una dimensione europea del conflitto sociale. È chiaro che anche dal punto di vista del conflitto sociale viviamo subiamo la frammentazione per andamenti nazionali più o meno connessi tra di loro e quindi anche da questo punto di vista da come dire l'antagonismo sociale la risposta alla sinistra è vittima di questa situazione. La crisi politica in queste elezioni europee dei governi francese e tedesco se vogliamo implicano il superamento di una soglia cioè la fine di quello che era il famoso asse franco tedesco nelle sue varie versioni che si sono succedute nei decenni che in un modo in un altro teneva assieme queste cose sia pure con ruoli evidentemente diversi laddove evidentemente soprattutto quello tedesco anche quello francese vedi come sta andando il debito il debito il deficit e quindi il debito dello stato francese ha a che fare con le rotture che la guerra dal punto di vista energetico in generale la dislocazione dei rapporti globali eh hanno prodotto per cui compresa eh osservazioni che in alcuni articoli si stanno facendo compreso il fatto che la Germania è rimasta legata nella sua struttura e composizione anche nella sua gestione amministrativa a un vecchio modello e non è riuscita ad anticipare i termini che la situazione europea sia frammentata basta prendere la rottura che c'è stata adesso sul problema di fare un carro armato europeo in cui la pretesa italiana di avere di avere più pezzi più voce in capitolo è stata rifiutata cioè nonostante la tendenza alla guerra non si riesce appunto a mettere assieme le risorse laddove evidente che anche dal punto di vista militare stante la straordinaria transizione tecnologica che intelligenza artificiale droni guerra ibrida eccetera 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 implica non si riesce non riescono non noi ovviamente non riescono a produrre una volontà strategica unitaria ed è questo che emerge no laddove quindi la struttura istituzionale dalla tripartizione delle istituzioni al ruolo della bce come dire nel suo complesso è un dispositivo che da come dire sempre meno produce una capacità di direzione strategica qualunque essa possa essere nella transizione necessaria di quella che è la formazione sociale europea perché poi tutte le formazioni sociali regionali nazionali locali e quant'altro attraversano noi lo sappiamo perché c'è la crisi climatica cioè la transizione quindi energetica necessaria una transizione tecnologico digitale che è di cui cominciamo ad avere eh una prima cognizione ma è qualcosa di assolutamente straordinario eh dentro cui si eh la questione della guerra la 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 trasformazione del delle forme di competizione in termini militari attuali quindi guerre in atto potenziali è una tendenza che ovviamente eh vive bene dentro quella che è una frammentazione la questione della 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 di dollarizzazione è evidentemente un elemento c'è un ultimo articolo di Brancaccio sul manifesto che è abbastanza interessante da lui da sempre segue queste cose ed è particolarmente significativa perché l'Europa se noi torniamo indietro di qualche decennio anno almeno di un po' di più di qualche anno la questione del ruolo dell'euro all'interno all'interno del sistema monetario finanziario mondiale era sollevato ma è evidente che la moneta una moneta non diventa eh come dire nelle sue tre determinazioni un fattore fondamentale nell'economia mondiale come tesorizzazione scambio unità di misura se non c'è se non è portatrice di una eh formazione sociale strategicamente unitaria eccetera in questo momento quindi l'Europa eh quindi non non ci sono elementi di ottimismo possibili in questo momento l'Europa esprime esclusivamente forme di frammentazione laddove paradossalmente se ci fosse una politica della difesa europea uno potrebbe dire che quello potrebbe essere un qualcosa su cui si potrebbe arrivare a delle forme di scambio fai la difesa e ci dai qualcosa di di sociale vabbè lì si tratterebbe qualcuno come è stato detto di carità però è evidente che questa questa mancanza di una qualsivoglia minima unità strategica e invece l'esprimersi di tutte le forme possibili immaginabili di frammentazione fanno sì che l'Europa sia vaso di coccio dentro queste nuove nuovi rapporti internazionali che come dire poi hanno a geometria variabile si stanno man mano dove poi ci sono appunto nei BRICS c'hai tutti come dire il tutto il contrario di tutto da vedi anche come si sono mossi nell'ultima pseudo conferenza di pace sulla Ucraina eccetera eccetera in questa dimensione è chiaro che la scelta che ne so di Putin della classe dirigente russa insomma di esplicitare la condizione di guerra di confronto militare evidentemente non solo al di là di aver fatto male i conti sulla possibilità di conquistare subito Kiev eccetera ma questo a questo punto è secondario eh ovviamente faceva i conti con la condizione europea dove come dire il fatto che sia più forte l'unità sotto la Nato piuttosto che un'unità politico finanziaria strategica eh non maschera il fatto che dietro questa come dire egemonia Nato in realtà ci sia una straordinaria debolezza e ciò si vede perché poi nonostante che si sia tutti nella Nato i vari governi europei si esprimono in maniera molto diversa rispetto alle cose quindi io credo che vada in termini di analisi che poi tutto questo rimandi al suprematismo eh quindi tutto il discorso eh tra l'altro su 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 sul sangue e la patria tutte queste cose qua eccetera quindi tutte le forme regressivi possibili immaginabili inevitabile che si affermino ed è ed è ed è drammatico che poi tutto questo eh possa avere presa sulle giovani generazioni ma questo è inevitabile perché poi le giovani generazioni come dire silenti eh non stanno prima o poi a qualche a qualche passione si devono si devono eh si devono far prendere insomma una qualche passione quindi io credo che questa condizione sia drammatica e al di là del discorso dei valori di cui eh è evidente che c'è necessità io credo che eh eh capire cosa eh quale forme di di trasversali di 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 conflitto sociale di organizzazione di movimento di critica pratica di di orientamento culturale eccetera possa essere ecco io credo che questo sia sia necessario e sia il compito futuro anche qui ovviamente in Italia le elezioni europee sono state elezioni italiane come in tutti gli altri paesi passata passato il momento elettorale proviamo a capire invece a livello europeo cosa si può fare mi rendo conto che appunto la situazione è talmente complessa che i discorsi che si fanno spesso sono puri e semplici allo spicci fine grazie Roberto io ho visto che c'è Franco Ferrari poi decidiamo un attimo i tempi a certo punto c'è un problema ma io sono vero ci sono io sono velocissimo in realtà eh se posso dire eh perché mi sollecitavo il discorso di Franco Russo eh che io non condivido molto nel senso che a me non ehm avrei molti rilievi critici da fare sia sulla strategia di Sarah Wagner in Germania e anche quella di Melanchon eh in Francia però io penso che loro eh in modi diversi in questa campagna elettorale e in generale sono posti un problema che è quello vero come si rientra in contatto con settori di classi popolari in un contesto in cui questi sono fortemente attrati dalle posizioni di destra ora a me sembra che le eh mantenere il discorso sul terreno dei valori non ci che pure ci devono essere evidentemente non è che altrimenti diciamo si fa un si scimmiotta il populismo dei iniziari dei cinque stelle cioè se per strada se l'uomo della strada è contro i migranti siamo anche noi contro i migranti che poi non esiste ma insomma pensa qualsiasi cosa noi seguiamo quel tipo di onda allora questo evidentemente secondo me non si può fare da sinistra però eh quello che viene fuori mio parere dall'insieme del del rotto europeo ma non solo è che oggi noi non abbiamo mh un eh modello eh come dire di sinistra che radicale alternativa che in un qualche modo riesce ad affermarsi che in un qualche modo possa dire quello è un punto di differenza poi che altri modelli non si possono portare da un paese all'altro non ha mai funzionato facciamo come si ride facciamo come la lince poi spesso si segue la moda del momento però resta il fatto che c'è eh una dispersione eh e anche una difficoltà a trovare dei punti di forza comune non c'è la stessa posizione sulla guerra non c'è la stessa posizione sul rapporto questione eh guerra e pace questione sociale non c'è la stessa posizione sull'Europa non c'è la stessa posizione sulle alleanze politiche eccetera eccetera questo è un altro di fatto però eh io penso che questo ci ponga il problema di andare a capire eh come ricostruiamo una relazione con i soggetti sociali se no eh i valori restano appesi per aria eh e che non postano eh nulla e io credo che da questo punto di vista sia l'operazione Malanchon sulla Palestina eh in campagna elettorale quella di Podemos sulla guerra che pur nella debolezza di Podemos ha così di recuperare un ruolo sia quella anche la stessa tentativi della valine non possono essere semplicemente liquidati ma vanno compresi soprattutto laddove riescono a ricostruire un rapporto con settori di classe popolare perché questo è altrimenti i valori che non hanno le gambe che non hanno gambe in una politica di massa secondo me eh sono apprezzabili ma eh valgono poco e io penso che vanno vanno c'è si tratta di capire in che modo ad esempio la valine riesca a riprendere un rapporto con settori popolare che tradizionalmente votavano prima la PDS poi la Link della Germania dell'Est e che poi invece sono stati completamente persi dalla Link per questo caso di fatto. Malanchon recupera in settori, di società in cui tradizionalmente era forte il PCF che per ora è stato quasi completamente cancellato. Quindi sarei meno eh liquidatore. Ecco non si tratta di adesso di prenderli con modelli perché ci sono molte cose che anche a me non piacciono però sarei meno liquidatore nell'esaminare quel tipo di risposta a un problema che abbiamo tutti a sinistra. Fine. grazie Franco se facciamo le repliche. Il diritto di replica. Sì comincerei io e farei chiudere poi Pasqualina perché io sono stato chiamato un po' in causa quindi mi concentro un po' più su quei punti e Pasqualina ma io ho fatto volutamente una cosa analitica e anche molto europea come era stato del resto richiesto esplicitamente da Franco Russo giustamente insomma anche se la natura di questa riunione ci può accortatire insomma sostanzialmente trascono più qualche altra cosa quindi c'è un problema di dialogo tra le aree quindi è un problema scesso ma ecco eh rimango su un analitico insommato anche se ho avanzato delle tesi no? Eh in particolare sui punti che sono stati avanzati da Franco e anche da Giovanni eh ora eh rimango su un analitico della politica perché io poi questo so fare perché penso che comunque le aggregazioni politiche siano un valore e che purtroppo se rimaniamo soli diventa tutto più difficile insomma se chiude il partito da sinistra europea chiude Trasco e tutto e via probabilmente anche noi eh ci potremo rivedere in paradiso se c'è il paradiso visto l'età media che ci abbiamo e prima io riparo la strada ma insomma tutto il resto diventa più complicato però no eh ora la discussione per esempio al gruppo parlamentare a cui su cui mi sono soffermato no? Premesso io in Germania avrei votato la link insomma eh che i miei valori sono quelli che eh avevo espresso in tutta la mia storia politica insomma e eh se ho capito il problema che osta a un rapporto con la Sara non sono i migranti eh perché quelli che ostano eh cioè in particolare i nordici sui migranti anche loro hanno le loro questioni insomma no? Eh non è l'europeismo perché quelli che ostano anche loro hanno le loro questioni ma la questione che osta appunto di diventare eh ostativa sul serio è la questione sulla guerra e su questo però dobbiamo essere chiari perché io poi risponderò la seconda parte ehm va bene appunto il sociale poi dirò anche una terza antifascismo insomma eh però o noi pensiamo eh che la guerra sia diciamo un elemento fondamentale rispetto a tutto quello che abbiamo detto su questo in modo più convergente per la militarizzazione il rapporto tra establishment e e e e populismi perché appunto eh la Meloni si fa eleggere direttamente per il paesale più o meno oppure no? Se pensiamo che c'è una frase io ho letto documenti internazionali compreso quello delle eh con cui vanno alle elezioni eh in francese francamente a proposito di valori ho problemi cioè ho problemi con i miei valori rispetto a a alla guerra e anche rispetto a alle conseguenze di quel posizionamento politico politico geopolitico da tutti i punti di vista. Allora se pensiamo che la guerra la questione eh fondamentale eh io penso che tutto sommato questa qui sia ehm utile eh farne luogo di aggregazione e quindi pensiamo che è meglio che salti il gruppo parlamentare eh che si fa ognuno se fa il gruppo suo non lo so cioè noi siamo sull'orlo di scomparire dallo scenario politico noi in Italia già siamo abbastanza io credo che bisogna prendere atto che siccome Franco ha parlato nel duemila e otto a distanza di sedici anni dal duemila e otto noi abbiamo una forza politica che è sostanzialmente la versione di destra dell'arcobaleno del duemila e otto perché l'arcobaleno del duemila e otto voleva essere fuori dal centrosinistra l'arcobaleno del duemila e ventiquattro è interno a centrosinistra e e abbiamo una frammentazione drammatica di di tutto dal punto di vista politico di valori della capacità politica insieme. Per questo io penso che appunto sarebbe invece utile che la posizione europea non fosse eh divaricata e affrontasse a partire dalla questione della guerra le altre questioni che sono eh quelle dell'economia che sembrano più facili sembrano perché anche sul debito la posizione dei nordici è diversa io mi ricordo benissimo eh la riunione di Firenze dieci anni dopo in cui il documento non si riusciva a fare perché c'erano quelli che in favore eh sostanzialmente del patto di stabilità e del e del rientro dal debito e quindi insomma questo era analiticamente naturalmente c'era dietro e gli accumuli politici sono una cosa utile a non una cosa che impedisce se uno ha un'altra la capisco io la capisco ci faccio i conti no? no? Cioè quando Fausto Bertinotti dice termina dei conti io ci faccio i conti non solo con le cose con quelle che dice Franco un po' meno quando leggo per esempio ho letto dei documenti che dicono che bisogna fare la nazionalizzazione delle armi per dare le armi agli ucraini e impedire che sulle armi si facciano i profitti francamente questa posizione mi sembra come si può dire un po' così ho letto documenti internazionali in questo modo non lo so si può dire tutto però francamente mi sembra un po' fuori mi sembra una posizione di valori mi sembra una posizione che del multiverso insomma ecco la questione sociale io però non so che campagna elettorale abbiamo visto io non ne ho parlato la campagna elettorale italiana ho evitato però io la campagna elettorale che ho visto è quella fatta tutta su guerra e debito e mi pare che noi analiticamente abbiamo detto che lo strumento il dominio che sono dati eh appunto i dominanti eccetera eccetera quello del debito e che è il grande rapporto che c'è con la vicenda dell'austerità e che è il grande rapporto che c'è con la questione di Maastricht e che è il grande rapporto che c'è con la finanziarizzazione per cui sono tutte le multinazionali io questo ho sentito cioè non ho sentito un pacifismo etico dal punto di vista della della cosa che io ho sostenuto in campagna elettorale su cui neanche ho parlato perché non mi andava di aprire la vicenda italiana sapendo che ognuno ha fatto le sue scelte e quindi non era questo però dire che non c'è stata no non c'è stata perché non c'è stata nessuna cioè qualcuno ha fatto la campagna contro il debito contro la finanziarizzazione io non ne ho viste né sociale né politica ho visto un prevalente un certo modo di agire l'antifascista interno a una certa geopolitica europea ora io penso che vanno tenute in asse tre cose la guerra la questione sociale e l'antifascista se poi alla fine appoggio la questione francese è perché all'ingrosso loro almeno sulla questione sociale non si sono omologati del tutto anzi hanno fatto la lotta sulle pensioni adesso Franco citava ma io preferisco citare la lotta sulle pensioni perché più nelle mie corte e nelle cose che penso non hanno fatto governi tecnici che con te tutti dentro quindi cioè ci hanno delle carte per dire che sono hanno fatto molto meno revisionismo storico perché noi non solo abbiamo fatto il governo con le destre ma noi siamo partecipi in italia di un revisionismo storico non totalmente perché un conto è violante un conto è slime probabilmente o tanti altri pezzi dello stesso pd ma a livello europeo non ha chiesto pasqualina adesso dicevo subito la parola partiva da quello revisionismo storico come si fa a fare l'antifascismo con revisionismo storico è complicato perché la storia d'europa ci dice che nasce prima la guerra il 915 e poi nasce il fascismo e poi dal fascismo nasce un altro tipo di guerra e quindi noi abbiamo bisogno di mettere insieme queste tre cose naturalmente la guerra la questione sociale ma io ci ho provato e c'è più che dire ossessivamente è risultato prevalente la cosa che bisognava liberare l'europa dal fascismo rappresentato da alcuni e quindi è stato un dato prevalente che ha fatto massa che ha fatto che ha convogliato intorno a sé anche non sono i militanti perché i militanti sono pochi un'area il più generale fra giovanni poi magari su questo facciamo una discussione perché a me piacerebbe fare una discussione senza demonizzare nessuno perché io come si può dire apprezzo i professionisti dalla politica rispetto ancora di più la gente ormai ho avuto tantissimi dentro un altra mente tantissimi dei ragazzi che hanno votato in un certo modo che era diverso dal mio ed è una cosa importante però certo quando ho letto che le sardine erano il nuovo 68 francamente sono così perché non lo scrive un ragazzo di altra mente l'ho letto scritto da qualcuno un po più amanti d'età più strutturato però facciamo un ragionamento no perché conosco interi corpi amici compagni ma come non vedi che l'ucraina è come e come l'assistenza italiana non è che eh cioè il rispetto così però analiticamente non è che il debito non abbiamo posto e la questione del fascismo va apposta ma in questa forma anche nuova che si è determinata perché è chiaro che il rapporto tra tra destra e establishment ma sai anche questo fascismo nasce in rapporto anche allora un po' tra gli staff o no sia in Italia che laddove nasce insomma è così ecco eh ho chiesto di fare prima io perché come vedete erano un po' risposte mirate alle domande giustamente in mente perché altrimenti stasera che ci dobbiamo fare è chiaro che tutti sono ognuno parte dal punto dove sta insomma ho preso io però Pasqualina grazie Roberto sì assicura può dare la parola Pasqualina se ci sento il microfono è chiuso Pasqualina se vuoi scusami si era chiuso da solo no ho ascoltato volentieri questa discussione non ho molto da aggiungere rispetto a quello che vedo che siamo d'accordo sulle tendenze intergovernative però insomma io non mi rassegnerei se fosse possibile a questa deriva penso che tutta la questione politica estera e sicurezza comune sia una questione non di facile realizzazione in questo quadro politico insomma o progressione diverso è la tendenza appunto della politica economica industriale cioè la mia paura è che come al solito questa Europa che mantiene il suo mercantilismo il mercato sia pure come la come la draghi non su scala continentale o europea comunque ma come sommatorie di piccole di politiche nazionali che ormai non fanno più non hanno più un impatto quindi posso immaginare che dal punto di vista industriale economico possono andare avanti dei processi ma che non hanno un riscontro necessariamente nella politica d'altra parte la storia più recente di questa Europa ci ha dimostrato che si può fare un mercato senza Stato diciamo senza una dimensione statuale convincente democratica sia pure sovranazionale che si può fare una moneta senza una dimensione sovranazionale democratica e convincente probabilmente si potrà fare pure una riconversione una un indirizzo industriale che appunto eh guarda alla sicurezza alla difesa senza essere sorretto da una altrettanto porguezzo dal punto di vista politico istituzionale perché come la la metafora delle sinistre che voi avete fatto appunto ciascuna nella sua dimensione nazionale nazionale diversa eccetera che non sta insieme o che ha difficoltà stare insieme è la metafora più generale dell'Europa a me è capitato di essere andata alla commemorazione di Giorgio Napolitano al Senato alla Camera eh tempo fa era prima delle elezioni e naturalmente c'erano molti del partito democratico lì no? eh che partecipavano tra l'altro in parte l'avevano organizzata loro insomma e eh la cosa che a me ha colpito è sentire teorizzare quello che poi è successo cioè noi imposteremo la campagna elettorale europea solamente prevalentemente sulle questioni sociali tant'è che candidiamo come spizza in candidato colui che è stato il commissario alle politiche sociali europee quello che ha fatto la direttiva sul sanitario milico naturalmente della guerra non ne dobbiamo parlare cioè proprio tabù tant'è vero che vedete nella campagna elettorale italiana la questione della guerra non eh proprio lontana mille miglia è stata una censura voluta politicamente scelta se vedete il congresso che hanno fatto a Roma i socialisti prima delle elezioni eh ha avuto lo stesso tenore cioè non parlare della guerra se non alcuni esponenti tra cui il francese che adesso è nella coalizione Gruxman che è stato tra i più insieme ad un esponente socialdemocratica olandese credo fosse quelli più eh sparati appunto sulla questione della guerra ehm contro la Russia per il resto non se n'è fatto niente d'altra parte la questione stessa della guerra no ho ho cercato di accennarla non è una questione di rimente tra destra e sinistra in Europa tant'è che una parte del voto alla destra si avvalza anche delle posizioni nazionali di alcuni partiti di destra o di estima destra che erano tutt'altro che accondiscendenti all'idea appunto di 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 intraprendere o di continuare così come si sta facendo la guerra in Russia contro la ehm direttamente nella prospettiva tra Nato o Europa e Russia quindi è molto complicato io sono assolutamente d'accordo sul discorso che eh guerra questione istituzionale tendenzialmente autoritaria e questione sociale vadano combinate insieme come farlo eh credo che che sia un po' il nostro mestiere cercare di capire come e continuare questo ragionamento io sono d'accordo con Franco su una cosa senza l'assillo dell'urgenza di scadenze elettorali di doversi organizzare perché insomma tra l'altro abbiamo davanti un periodo dove non ci sono scadenze elettorali penso che vi siano dei dati inquietanti sulle società europee ho sentito un bellissimo descrizione di Tonia Mastrobuoni sulla Germania proprio in riferimento al rischio di suprematismo bianco adesso lo dico così che agisce in vario modo non solo rispetto al colore della pelle ma rispetto alle religioni le tradizioni eccetera quindi io ho il la paura che quello che si ripresenterà di fronte all'Europa in questo momento a differenza della della guerra della fine della prima guerra mondiale che poi ha preparato la seconda sia eh una eh coniugazione del fascismo che eh si riproporrà avendo come obiettivo il consenso popolare contro alcuni soggetti che eh appunto non non si ha nessuna intenzione di integrare altra parte in Italia lo vediamo questa la candidatura di questo generale secondo voi da dove nasce a che cosa serve che cosa il fatto che abbia questa curvatura così accattivante verso appunto l'opinione media lo no? Quindi io penso che la questione sociale vada ripresa qualcuno ha detto non c'è stata e questo è una cosa che io eh purtroppo osservo da tempo nessuna ehm capacità di mobilizzazione del mondo del lavoro al di là a dimensione europea questo è un altro limite enorme anche della vita dei sindacati nel senso che questa dimensione nazionale questa sommatoria di dimensioni nazionali è il modo in cui è stato costruito la politica economica e il mercato ha messo nella concorrenza il lavoro e i lavoratori per cui noi abbiamo appunto avuto i lavoratori eh di un paese contro i lavoratori degli altri abbiamo visto tutto questo nella dimensione è stato che è stato costruito di transfrontaliere e quindi eh quindi eh io vedo con preoccupazione anche il futuro perché non vedo soggetti capaci di mettere in moto processi di questo tipo perché sicuramente non si può fare una politica senza avere dietro il popolo o la una parte consistente di esso sapendo che la destra la politica sociale la farà e la fa ma fa una politica corporativa Quindi bisognerebbe cercare di opporre una visione corporativa degli interessi una questione più generale di questi. Allora a livello europeo in Italia la CGL sta cercando di organizzare appunto questi referendum eccetera. A livello europeo potremmo anche con gli strumenti democratici che ancora esistono e resistono e che spesso non agiamo cercare di aggredire alcuni punti che rendano queste questioni coniugabili e che abbiano come controparte l'Europa? Ci vogliamo pensare? Secondo me anche io non so come si costituirà, se si costituirà questo gruppo della sinistra in Europa così come l'abbiamo conosciuto oppure in modo diverso. Certo che se la questione della guerra purtroppo non è un punto unificante, se la questione sociale ognuno se la canta e se la suona cercando di salvaguardare quello che c'è. E se quello che viene avanti è anche diciamo nell'interpretazione della sinistra che alla fine gli immigrati sono il nuovo capo e capo espiatorio rispetto a una situazione che si può presentare diciamo critica anche rispetto ai livelli come dire di consumo, di vita, di benessere che questa che le nostre società hanno conosciuto e certo il quadro è abbastanza inquietante. Quindi come dire io sono molto sensibile ai vostri dibattiti, sono molto d'accordo nel continuare a ricercare, a dare una mano perché insomma il lavoro mi sembra mi sembra grande, enorme, però bisognerebbe appunto, sono d'accordo, ricominciare dalle analisi, dalle idee, dalle indicazioni. Poi insomma vediamo pure l'evolversi delle cose perché la situazione in Ucraina al di là delle armi che noi possiamo dare fino ad almarli oltre i denti c'è una questione banale che riguarda ormai gli uomini che hanno, che possono mettere in campo. C'è una questione banale del fatto molto concreta che i giovani ucraini non si vogliono arruolare e che forse lo stesso governo Zelensky non è così forte così come ci vogliono far credere insomma. Quindi penso che anche lì possano esserci delle evoluzioni che noi dobbiamo cercare di aiutare insomma anche perché la situazione mi pare grave e questi vertici non hanno risolto un cavolo insomma anche perché hai ragione Roberto, quello che emerge non è niente di nuovo tanto è vero che come si chiama il vice ministro di Zelensky ha cominciato a dire a noi questo vertice serviva per poi preparare quello definitivo di confronto insomma d'incontro con la Russia. Nel frattempo sono d'accordo con voi di allargare lo sguardo perché in questi qualche tempo fa vi è stata la riunione dei BRICS in Russia tra l'altro e nessuno ne ha parlato insomma come se questi fossero una realtà insomma inesistente per l'Europa e tra l'altro l'Iran per la prima volta è stato invitato che ha partecipato e credo che lì insomma anche quella sia una un'attenzione che che dobbiamo avere. E niente quindi seguiamo l'evoluzione come osservatorio di questa questione europea anche perché appunto ci saranno sviluppi anche dopo le elezioni in Francia cerchiamo appunto di seguirla e vediamo in che forma possiamo in qualche modo influenzarla con un'apertura mentale ma anche con con grande preoccupazione perché appunto ci sono delle scadenze pensate il voto in Germania, il voto nelle Ender dove vedrete che verrà fuori sicuramente una questione di spostamento a destra della CDU e della CSU soprattutto nella versione Est perché se le elezioni andranno in un certo modo nessuno potrà fare governi in quei Länder se non alleandosi con la FD e quindi segnali ci sono quindi la situazione è veramente veramente dal mio punto di vista è molto preoccupante soprattutto per la situazione in Germania e poi le elezioni in Francia apriranno anche lì un'altra un'altra situazione di movimento che riguarderà più che altro la destra ma che sicuramente influenzerà anche gli sviluppi della politica europea sia e delle istituzioni. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti voi vi ricordo che questa è registrata e poi il mercoledì sarà online sul Transform Italia e sicuramente dovremmo continuare a vederci perché ci sono gli sviluppi appunto come diceva Pasqualino adesso magari fare dei focus più mirati che sono stati più interessanti anche chiamando gli esperti locali sia in Germania che in Francia magari poter avere anche un punto di vista da dentro quindi magari possiamo lavorare per questo e intanto ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato e ci aggiorniamo poi per i prossimi appuntamenti. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.